No, però devi andare piano, devi andare piano, l'acqua, segnala pure l'acqua. Che acqua devo mettere? L'acqua, segnala l'acqua. Che acqua devo mettere? No, devi andare piano, l'acqua, l'acqua santa ci vuole quando guidi tu. Guarda quello, guarda quello, guarda quello. Ehi, e muoviti, ah! Già te che a questo che dici che io corro, non sto correndo, ok? Anzi, no, un navigatore stancacaggiano era paura. E guarda, guarda. Mi ha messo mezz'ora il navigatore per dire, gira a te, 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 destra. Proprio a mo dovevi passare, proprio a mo, se mi aspetta davvero, se mi aspetta. Dove vai, dove vai? A destra. Dovevamo andare a destra. Perché? Dovevamo andare a prendere prima mia mamma che sta aspettando sotto al palazzo che voleva venire con noi per andare da Sara. Ma è rimasto sotto al palazzo così ad aspettare a noi. Ma ho mendicato. Ma ho mendicato. La devi finire con questa assolta. La devi smettere. La devi smettere di trattare male mia mamma. Lo sai che l'ha detto pure il Papa? Che ha detto? Ha detto bisogna trattare bene le suocere. Sono esseri speciali. Evidentemente il Papa non conosceva mamma. Ma tra l'altro sei marino, vai dire. Oh, oh! Eia, mia! Eia! Ma mi fai scattare un'altra volta il rosso, mi fai scattare!